Siamo qua con Marco Todoro per presentare un nuovo sistema di styling, un rivoluzionario sistema di styling che è Arpair, più vicino alla donna e più vicino anche alla categoria dei parrucchieri. Esatto, buongiorno, buongiorno e grazie, grazie mille di essere qui con noi. Sì, Arpair, fortunatamente è arrivato un po' il momento di concentrarci non solo sul colore come abbiamo fatto in questi anni, ma anche sul mondo dello styling, quindi un nuovo modo di interpretare il concetto dello styling attraverso dei canali, una grammatica precisa di quello che per sempre è stato il nostro mestiere, nel senso che l'aspetto styling è stato appreso durante ovviamente la presenza in Salone, guardando, copiando e ripetendo ciò che abbiamo sempre visto fare ai nostri predecessori ovviamente. Di fatto quello che invece noi intendiamo è dare grammatica, quindi dare un ordine preciso attraverso degli schemi, attraverso dei nomi, attraverso delle gestualità che corrispondono a un preciso risultato, per semplificare e per arrivare nel modo immediato, senza dover per forza passare attraverso dei tentativi per ottenere un certo tipo di risultato. Quindi un sistema ripetibile? Ripetibile, sì, ripetibile proprio attraverso il linguaggio, non solo ripetibile all'interno della propria struttura, ma dare un servizio alla consumatrice che se cambia città chiedendo quel tipo di servizio, quindi con un nome specifico, può riceverlo serenamente. Facciamo un esempio. Facciamo un esempio, per esempio oggi stiamo utilizzando gli strumenti a caldo, abbiamo dato dei nomi a dei movimenti che corrispondono a un risultato, delle onde che si possono chiamare Hillary piuttosto che Kate o una donna che decide di andare a un aperitivo e avere un look un po' più sbarazzino, quindi pippi. Quindi sulla base di questo si ha un carattere che viene dato di supporto all'immagine della nostra amica consumatrice che viene in salone e che permette di rappresentarsi al meglio per ciò che desidera. Le donne vogliono essere belle ma in fretta, sono veloci questi styling? Sì, esatto. Allora, il servizio Arpair è un servizio veloce che non si sostituisce alla piega tradizionale e avendo uno schema e quindi un obiettivo preciso sicuramente semplifica e riduce i tempi già per quanto riguarda un servizio piega tradizionale. Poi invece la grande novità che sarà del 2017 nasce proprio da un ascolto attivo, da quello che abbiamo appena detto, le donne sono sempre più frenetiche in termini di tempo, hanno sempre più bisogno di tempo e di conseguenza nasce questo tipo di servizio che dà la possibilità di essere ben pettinate, veramente ben pettinate, ma allo stesso tempo sviluppare il tutto in una rapidità incredibile. Quindi, in sostanza, cosa chiediamo noi? Abbiamo fatto questo compromesso da un ascoltativo in alcuni laboratori d'Italia dove abbiamo chiesto alla donna che cosa desidererebbe e mi piacerebbe arrivare qua in cinque minuti, spendere il meno possibile ed essere figa. Cioè, questo è il sogno di tutte. Il sogno di tutte. E allora, ci siamo fatti questa domanda, è possibile fare questo? Sì, ok, però occorre che ci aiutate. In quale modo? Pensiamo magari se voi potete lavarvi i capelli a casa e arrivare qua già con i capelli asciutti, quindi con la vostra chioma che avete naturale e sulla base di questo noi vi faremo un ciuffo celebrity, una cornice intorno al viso bellissimo, in pochissimi minuti. Il resto della massa verrà gestito in maniera di carattere, dipende dove mi sto recando. Se sto andando, per esempio, a un appuntamento di lavoro importante, magari farò uno chignon piuttosto che una banana, ma veramente molto rapida, molto red carpet, si usa adesso questa mancanza di compostezza, è preferita come gusto, è più attuale sul panorama anche della moda stessa. Oppure, invece, sto facendo un aperitivo, ho bisogno di qualcosa di più simpatico, più giocoso, più scherzoso, in questo caso anche soltanto un puccio e chiaramente deve essere di sostegno all'immagine, al e all'outfit che sta indossando questa persona. Senti, però non è solo per giovanissime, è anche per giovanissime, ma per tutti. E a che costo può avere? Perché impegna comunque il salone a livello organizzativo? Beh, no, subito dopo un apprendimento di questo sistema non impegna assolutamente, anzi è molto stimolante, proprio perché ci dà la possibilità di fare dei look diversi, settimanalmente, quotidianamente, ogni qualvolta ci vogliono venire a trovare. E proprio per questa ragione, vista una frequenza molto frequente, il listino deve avere un posizionamento molto basso, cioè molto adeguato, non basso, perché non parliamo di svendere il nostro lavoro nel modo più assoluto, ma di dare il valore giusto per quello che stiamo realizzando. Quindi se sono preparato a fare una cosa, questa la faccio con sicurezza in pochi minuti e ha quel valore. Quindi sarà un listino che può oscillare degli 8 ai 12 euro, 6 ai 10 euro, in base anche alla collocazione geografica, dove si trova il salone e la dimensione del salone. Ci rivolgiamo trasversalmente a tutte le donne perché non abbiamo pregiudizio e ci rivolgiamo soprattutto a chi ha i capelli in testa, perché senza i capelli questo non possiamo fare. Niente per gli uomini pelati. Niente per gli uomini pelati, che comunque hanno la barba adesso, quindi qualcosa la stanno facendo. In questi giorni siamo qua per fare appunto quelle che saranno le immagini del 2017, stiamo preparando una serie di materiali, non solo Arpère ma anche Arpege. Abbiamo condiviso con tutto il team, quindi ci sono i migliori relatori che hanno fatto la tournée 2015-2016, formando migliaia e migliaia di salone di acconciature. In tutta Italia, vero? In tutta Italia, al momento tutta Italia. Noi speriamo sempre di poter dare questo servizio anche all'estero. Ci stiamo provando in tutti i modi, sono convinto che prima o poi ce la faremo, perché dove c'è bellezza non c'è confine. E quindi abbiamo dei team che si stanno un pochettino alternando tra un set di styling e un set di colore. Per quanto riguarda il set di colore, stiamo lavorando su una serie di materiali che verranno messi a disposizione proprio a chi farà un percorso e di conseguenza tornando a casa magari si dimentica qualche gestualità. Abbiamo pensato di fare dei mini video che diano la possibilità appunto al collega che ha appena fatto questo corso di rivedere in tempi brevissimi e poter rinfrescare e riportare alla memoria quello che è stato vissuto in aula. Education 3.0, insomma. Si chiama così? Education 3.0, sì, Education 3.0, ragazzi. Ascolta Marco, ma qual è l'errore che fanno i parrucchieri di oggi e un consiglio che si può dare per migliorare la propria attività in salone? Ucaspita, né consigli né errori. Secondo me nessuno sbaglia. L'importante è essere a se stessi, io credo, perché ci sono due cose su cui io penso e sono veramente convinto che sono i due verbi del momento. I verbi del momento sono il verbo avere e il verbo essere. Il verbo avere è quello di poter avere, no? Ed è un grosso problema questo perché se ci si focalizza sull'avere si perde il senso di essere, quindi di costruirsi e una volta che io ho, il giorno che non ho, non sono nessuno. Attraverso il verbo essere, che vuol dire investire su se stessi, costruire e lavorare sulla propria personalità, posso anche avere. E il giorno che magari non ho più, sicuramente ritorno ad essere. E questo è un pochettino la filosofia su cui noi lavoriamo, ma ci viene molto naturale, nel senso che è una cosa che ci abbiamo riflettuto. Quindi errori, onestamente, sono gli errori di sottovalutarsi, di credere in strategie commerciali, di diminuire, di non avere un'identità. Perché uno può avere un'identità strategica, politica, commerciale, artistica, ciò che vuole. L'importante è essere coerenti. Allora, noi ringraziamo Marco Todor e lo aspettiamo perché lui ci farà vedere adesso in diretta un attimino come si fa questo nuovo servizio di styling che è Arpair. Va bene, d'accordo. Assolutamente con molto piacere.